ragazzi oggi ho un regalo per voi ma se vi dicessi che ad affondare quella notte non è stato il titanic oggi asfaltiamo un altro complotto sul titanic i complottisti non deludono mai oggi voglio analizzare quest'altro complotto insieme a voi e vedere se in effetti c'è qualche fondamento di verità e il complotto che prenderemo in considerazione è quello riguardante la federal reserve e ora giustamente vi starete chiedendo che cavolo è la federal reserve e la spiegazione ve la faccio fare dal complottista youtuber e tiktoker numero uno morgan aveva un duplice piano una crisi finanziaria nota come il panico del 1907 minacciò diverse banche di new york di fallire un risultato evitato attraverso prestiti organizzati proprio dal banchiere jp morgan che riuscì a ripristinare la fiducia nella comunità bancaria di new york e creare la federal reserve bank ma prima che ci riuscisse c'erano tre uomini potenti che si opponevano alla sua creazione il milionario john jacob astor il potente magnate benjamin gaggenheim e il comproprietario di macy's isadol strauss e tutti e tre morirono sul titanic la nave che lui stesso aveva fatto costruire morgan aveva un enorme suite privata sul titanic ma sembra abbia disdetto all'ultimo la sua partecipazione perché non aveva più voglia di partire guarda caso all'ultimo minuto ok da dove inizio buona notizia e cattiva notizia la buona notizia è che effettivamente c'è un filino di verità in quello che è stato detto la cattiva notizia purtroppo per lui è che il 90 per cento delle cose che ha detto non hanno nessuna valenza storica quindi smontiamo interamente tutto questo complotto prima di iniziare voglio ricordarvi di lasciare un like e di iscrivervi al canale qui parliamo della storia del titanic e in molti casi come quello di oggi smontiamo proprio i complotti che girano intorno alla storia della nave e infine voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale tornando a noi andiamo ad analizzare effettivamente la domanda principale di tutto questo complotto jp morgan ha effettivamente affondato di proposito il titanic perché voleva eliminare i suoi concorrenti che si opponevano alla creazione della federal reserve andiamo per gradi e vediamo quello che viene detto nel video morgan aveva un duplice piano una crisi finanziaria nota come il panico del 1907 minacciò diverse banche di new york di fallire un risultato evitato attraverso prestiti organizzati proprio dal banchiere jp morgan che riuscì a ripristinare la fiducia nella comunità bancaria di new york e creare la federal reserve bank questa è praticamente l'unica cosa effettivamente reale che viene detta in tutto il video la creazione della federal reserve ma prima di andare avanti vi spiego brevemente che cos'è la federal reserve la fed sarebbe praticamente la banca centrale americana detto in parole povere la banca delle banche venne creata per agevolare la crescita economica e per tenere l'inflazione sotto controllo principalmente serviva per tenere sotto controllo gli interessi come per tutte le persone che vanno in banca a chiedere un prestito molte volte anche le banche hanno bisogno di soldi si rivolgono quindi alla federal reserve che presta loro del denaro decidendo però il tasso di interesse questo tasso di interesse si ripercuote di conseguenza sugli interessi che dovranno poi versare i clienti della banca di conseguenza all'economia eccetera 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 la federal reserve venne creata il 23 dicembre 1913 un anno dopo l'affondamento del titanic questo è un po in sintesi il suo funzionamento andiamo avanti ma prima che ci riuscisse c'erano tre uomini potenti che si opponevano alla sua creazione il milionario john jacob astor il potente magnate benjamin gaggenheim a per l'esattezza si dice benjamin guggenheim ma continua e il comproprietario di mazies isador strauss e tutti e tre morirono sul titanic la nave che lui stesso aveva fatto costruire ok fermiamoci subito perché tutto quello che è stato detto fino adesso è completamente falso e lo so stava andando bene il ragazzo però il problema di questo complotto è che è basato su dei presupposti completamente sbagliati i sostenitori di questa teoria mettono sempre in mezzo si tre poveretti isidor strauss benjamin guggenheim john jacob astor dicendo e affermando che loro si opponevano alla creazione della federal reserve questi tre uomini messi insieme avrebbero oggi un valore di circa 11 miliardi di dollari e sarebbero stati talmente influenti e ricchi nel 1912 da potersi quindi permettere di opporsi alla creazione della banca centrale americana tutti e tre erano a bordo del titanic e tutti e tre morirono durante il naufragio il fatto che tutti e tre morirono durante l'affondamento del titanic porta le persone a pensare che jp morgan avesse quindi affondato il titanic di proposito per eliminare la minaccia c'è un complotto ma chi era jp morgan john pierpon morgan era un potente banchiere americano che possedeva una società di nome american mercantile marine imm che comprò la white star line era praticamente il proprietario del titanic tutto il complotto è basato sul fatto che questi tre uomini si opposero alla creazione della federal reserve quando in realtà non è vero innanzitutto non esistono prove scritte che attestino che sia john jaco bustor che benjamin guggenheim si opposero alla creazione della banca centrale americana mentre isidore strauss confermò pubblicamente il suo essere favorevole alla creazione della federal reserve vennero scritti anche diversi articoli sul new york times nel 1911 dove viene confermato pubblicamente che isidore strauss era proprio favorevole alla creazione della fed quindi l'intera idea che questi tre uomini si opposero alla creazione della banca centrale americana è completamente falsa ovviamente il fatto che tutti e tre questi uomini siano morti durante l'affondamento del titanic è una cosa storicamente appurata il problema è che la teoria afferma che jp morgan abbia affondato il titanic di proposito proprio per accertarsi che queste tre persone fossero uccise durante l'affondamento come faceva jp morgan ad avere la certezza matematica che queste tre persone morissero durante il naufragio e i sostenitori di questo complotto a questa domanda non rispondono mai anche perché di domande ne sorgono parecchie se effettivamente jp morgan avesse orchestrato tutta questa operazione di uccisione dei suoi concorrenti in primo luogo come ha fatto ad avere la certezza che il titanic si schiantasse contro un iceberg cioè è andato dal comandante dall'equipaggio a dire schiantatevi sulla prima cosa che trovate sulla rotta e ovviamente sia il comandante che l'equipaggio sapendo che la nave non era dotata di scialuppe a sufficienza sarebbero stati lì sull'attenti a dire sì signore ma non staremo a fare una cazzata poi come fai ad avere la certezza che proprio quelle tre persone nello specifico anneghino durante l'affondamento ci sono stati tantissimi altri passeggeri ricchissimi e super influenti che si sono salvati dall'affondamento del titanic come ad esempio bruce ismay amministratore delegato della white star line oppure ser cosmo duff cordon quindi come faceva morgan ad avere la certezza matematica che sia strauss che astor che guggenheim non riuscissero in qualche modo a salvarsi dal naufragio la sopravvivenza durante l'affondamento del titanic dipendeva da tantissimi fattori su quale lato della nave una persona si trovasse se sul lato destro sul lato sinistro bisogna tenere in considerazione il momento e il luogo in cui una persona si trovasse sulla nave sappiamo per certo ad esempio che william murdoch sul lato destro della nave ha fatto tranquillamente salire uomini a bordo delle scialuppe cioè ci sono tantissimi modi in cui queste tre persone si sarebbero tranquillamente potute salvare non c'è assolutamente nessun modo in cui morgan avrebbe potuto avere la certezza matematica che quelle tre persone morissero durante l'affondamento e queste sono domande semplicissime a cui i complottisti non rispondono mai e non rispondono perché fondamentalmente le risposte non ce le hanno nemmeno loro oltretutto proprio ad Isidore Strauss venne offerto un posto su una scialuppa fu proprio lui a rifiutarlo perché disse che non avrebbe mai tolto un posto a una donna o un bambino quindi nel caso ipotetico in cui l'equipaggio effettivamente sapeva che avrebbero dovuto far fuori Isidore Strauss gli andavano offrire un posto su una scialuppa cioè il piano di affondare la nave più grande del mondo durante il viaggio inaugurale è parecchio elaborato per poi non avere la certezza a che il Titanic effettivamente si schianti contro un iceberg e b che i tuoi concorrenti effettivamente muoiano durante l'affondamento sarebbe stato meno elaborato e molto meno costoso assoldare un sicario che gli avrebbe fatti fuori sulla porta di casa ma andiamo al punto finale morgan aveva un enorme suite privata sul Titanic ma sembra abbia disdetto all'ultimo la sua partecipazione perché non aveva più voglia di partire guarda caso all'ultimo minuto i complottisti affermano che JP Morgan sapendo che il Titanic sarebbe affondato non si sarebbe imbarcato all'ultimo momento ma sappiamo per certo che anche questa cosa è completamente sbagliata JP Morgan doveva recarsi assolutamente in Francia perché in quel periodo stavano cambiando le normative che regolavano l'esportazione di opere d'arte dall'Europa agli Stati Uniti quindi comunicò settimane prima che non avrebbe presenziato al viaggio inaugurale del Titanic proprio perché doveva recarsi in Francia per concludere questi affari di lavoro cioè la teoria dello scambio del Titanic con la Olympic che oltretutto già smontato in un altro video ha un po più di senso rispetto a questa che ha dei buchi nella trama allucinanti e completamente senza senso cioè con la teoria dello scambio i complottisti ci hanno avuto almeno un po più de fantasia sarebbe stata anche più plausibile fino a quando però qualcuno non va a studiare effettivamente le cose come stanno cioè almeno la storia è più figa e ragazzi praticamente il complotto finisce qui tutta sta storia parte male già dall'inizio perché ha dei presupposti completamente sbagliati poi come ho già detto nel video dove smonto il complotto dello scambio tra l'Olympic e il Titanic la cosa folle sarebbe mantenere un segreto del genere appunto segreto il problema con tutti questi complotti è che sono sempre troppo folli e troppo orchestrati e complicati nella loro trama e quindi è impossibile tenere per tutti questi anni un segreto così segreto ed è qui che poi il complottista medio inserisce i poteri potentissimi gli illuminati i rettiliani gli alieni e chi più ne ha più ne metta oltretutto se effettivamente John Jacob Buster, Benjamin Guggenheim e Isidore Strauss si fossero salvati durante il naufragio non c'è assolutamente nessuna garanzia che la loro influenza avrebbe comunque fermato o ostacolato la creazione della Federal Reserve nel congresso e nel senato americano c'erano già da decenni molte congregazioni e gruppi a sostegno della banca centrale americana e sappiamo che la creazione della Federal Reserve nel 1913 venne approvata con una marea di voti favorevoli quindi tre persone avrebbero fatto praticamente nessuna differenza anche solo immaginando che effettivamente volevano porsi quando abbiamo visto che non è così alla fine ho fatto più domande io di quante effettivamente ne abbiamo risposte quindi il verdetto finale alla domanda JP Morgan ha effettivamente affondato il Titanic di proposito per evitare quindi oppositori alla creazione della Federal Reserve e il verdetto è no però dai è figa come teoria alla fine no in realtà no fa veramente schifo cioè veramente sto video poteva durare tranquillamente un minuto scusatemi però curioso come grafene nel video iniziale ci metta veramente tutto quell'entusiasmo quindi che ne pensate è stato JP Morgan a fondare il Titanic scrivetemelo nei commenti così magari litighiamo scherzo ragazzi no che non litighiamo a meno che non mi venite a dire che la terra è piatta se vi è piaciuto il video non dimenticatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale perché sono in arrivo tantissimi altri video riguardanti il Titanic e probabilmente moltissimi altri complotti da asfaltare